sono qua sono qua in design ok ho però fatto il pezzo questo pezzo è fatto stato fatto con x shape avevo provato a fare la specchiatura tenendo conto come piano di specchiatura questo però non riuscivo ok allora ho provato a fare a rientrare in x shape a fare il crisi e adesso proviamo a vedere se fa la specchiatura dunque andiamo qua al comando specchiatura andiamo a selezionare questo piano lui selezionava ma si vede che non era un piano non è un non era un piano adesso porto col crisi e andiamo a vedere body selection andiamo a selezionare il corpo e adesso me lo fa e dunque mi ha creato questa questa specchiatura su lo stesso piano e dunque questo crisi age naturalmente x shape è è comodo e dopo io avevo fatto avevo provato che poteva essere interessante invece questo però questo andare di nuovo a fare la specchiatura però questa volta col piano questo qua select items body selection andiamo a vedere ecco che era carino ecco ma soprattutto questo era carino senza il mio andiamo cancellare il mio dell'itmi rò to choose children to keep the select andiamo a dunque posso anche scegliere ok no in questo modo vado a togliere tutte e due non posso scegliere niente ma se io volessi scegliere delle tele a let e oltre ho capito dunque cancella tutto perché aveva il figlio ho capito perché quello torniamo indietro siccome giustamente lui dice guarda che mio 4 e papà di meno 5 non poi mi cancelli tutto dunque vado a cancellare aspetta vado a cancellare chiusa dunque io vado a solo questa qua perché sennò mi va a cancellare anche quella l'altra mi vado 5 va a cancellare tutto ok torna indietro invece come se delle teole invece vado a cancellare qua ok chiusa faccio così mi fa cancellare solo mi rimane il mio 5 ecco in pratica per staccare avello staccare comodo questo staccare il figlio dal papà oggettivamente comodo 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 ok vabbè spero di essere stato utile ci vediamo alla prossima arrivederci ok Grazie.